Ciao a tutti ragazzi, nuovo video, oggi vediamo Persona 4 Arena Ultimax, che è la versione ultra, tra virgolette, di Persona 4 Arena. Questa nuova edizione contiene dei nuovi personaggi, ovviamente come ogni picchiaduro, dei nuovi stage e credo anche i colori che erano venduti come DLC, adesso non sono sicuro. Direi, boh sì, credo di sì. Una modalità storia ancora più vasta di quella precedente ovviamente perché viene arricchita con i nuovi personaggi giocabili e il gioco è fatto Dark System Work, quindi una certezza per quanto riguarda i picchiaduro bidimensionali. Adesso fra un paio di settimane arriverà anche Guilty Gear, che ho già ordinato, quindi arriverà dal giuapone molto 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 fast, quindi per PS4 quello, mentre oggi andiamo a vedere questo che è ancora per PS3. Vediamo cosa c'è al suo interno, abbiamo il libretto e il disco di gioco, e adesso andiamo a vedere il libretto di istruzioni, non sono presenti DLC o cose strane. E abbiamo un libretto di istruzioni corposo, possiamo vedere, che contiene, vediamo un po', il prologo, tutte le pagine dei personaggi, incredibile ragazzi, abbiamo un libretto, un caro vecchio libretto come potete vedere, incredibile ma vero. Bene, questo è tutto, è una liscia, non posso trattenervi oltre, quindi noi ci vediamo con i gameplay, mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale per tante altre novità che arriveranno nelle prossime settimane. Ciao!